Buongiorno, buongiorno, buon lavoro, buona scuola, buon appetito, buona vita, buona salute a chi problemi di salute ha, buona fortuna agli italiani. Perché qua c'è un governo che invece di unire, divide. Invece di risolvere, rimanda. Invece di programmare, improvvisa. Sembra la lotteria di Capodanno. Gialli, arancioni, rossi, giudizi fondati su dati scientifici vecchi, superati, in questo momento non corrispondenti alla realtà, che penalizzano milioni di lavoratori senza minimamente risolvere i problemi di salute. E' questo quello che non capisco e che contesto. Se ci fossero scelte, condivise, programmate, fondate su dati scientifici certi e attuali, non di 15 giorni fa, che permettono di prevenire, di curare, di guarire e di risolvere, uno dice, vabbè, la salute prima di tutto, la vita prima di tutto. Ma sapete che ad esempio in Regione Calabria lo riempimento delle terapie intensive è al 6% e i dati sono migliorati rispetto a quelli passati, come in Lombardia e come in Piemonte, giusto per stare all'attualità. La Sicilia ha dichiarata zona arancione, a rischio, con i siciliani chiusi in casa, bar, ristoranti, negozi e con gli sbarchi a Lampedusa che continuano come se nulla fosse. La Sicilia è chiusa per i siciliani, ma è spalancata per i clandestini. Che senso ha? Trattare i comuni grandi come i comuni piccoli. Un governo che non distingue, che non aiuta, che non condivide, che non condivide. Si parla di collaborazione, ma non puoi tu comunicare a un sindaco, a un governatore che si occupa di milioni di persone, di lavoro, di salute, che deve pianificare, deve organizzare, gli dai un colpo di telefono cinque minuti prima di tirare giù la saracinesca per milioni di lavoratori. Pensate che solo in Lombardia, questa chiusura che dovrebbe partire domani, dico dovrebbe partire perché stiamo cercando di fare il possibile e l'impossibile per evitare uno scempio, un errore, che ripeto, non risolve i problemi di salute e crea problemi economici e sociali. E quindi stiamo lavorando ad ogni soluzione e situazione possibile con i sindaci, con gli imprenditori, con i sindacati, con gli artigiani, per cercare di risolvere il problema dove va risolto. Il problema è il trasporto pubblico. Il problema è l'enorme ritardo accumulato dal governo di almeno sei mesi nel potenziamento degli ospedali in tutta Italia, assunzione di medici, assunzione di infermieri, programmazione, nuovo materiale. Commissario Arcuri, dove sei? Scriviamo a chi l'ha visto per avere notizie del commissario che prima ha fatto danni sulla scuola e adesso sta facendo danni sulla sanità e sul lavoro degli italiani e il governo lo promuove. Invece di rimuoverlo, lo promuove. Laddove c'è un'incapacità, in un'azienda normale, in una famiglia normale, in un paese normale, se qualcuno non fa il suo lo rimuovi, questo governo lo promuove. Vabbè, quindi noi siamo qua per cercare di risolvere i problemi. Sto parlando con i sindaci da questa mattina che mi dicono, ad esempio, ho parlato con un sindaco della provincia di Brescia che mi dice io su quasi 7.000 abitanti ne ho 23 positivi, senza sintomi, sono a casa, tranquilli, li chiamo tutti i giorni, spiegami perché devo blindare il mio comune. Senza che ci sia nessun tipo di emergenza sanitaria in corso, ma creando un'emergenza sociale, culturale ed economica. E ripeto, non è possibile che ci siano le dirette tv di Conte alle 8 e mezza del mercoledì per decidere della vita delle persone la mattina del venerdì. Pianificazione, programmazione, visione, organizzazione. Un negoziante, un professionista, un artigiano, una partita IVA, un imprenditore, un genitore, un lavoratore hanno bisogno di tempo per organizzare la propria fabbrica, la propria famiglia, la propria giornata, la propria vita. Basta! Non è possibile cambiare idea dalla sera alla mattina, fare decreti una volta alla settimana diverso, aprire e chiudere, aprire e chiudere, il 18, le 20, il 21, col cane, senza il cane, da sporto, col gelato, senza gelato, il parrucchiere sì, l'estetista no, la Lombardia sì, la Toscana no. Beh, si ammica alle estrazioni dell'otto. I comitati tecnici scientifici, uno dice una cosa, uno dice un altro, domanda, perché non si fa nulla per potenziare le terapie a domicilio, la medicina a domicilio. Quel burlone di Toninelli, che magari sta passando le giornate col click day per i monopattini elettrici, perché di questo si stanno occupando alcuni scienziati al governo, dice che Salvini è un cretino perché propone l'utilizzo di farmaci antimalarici che non servono e fanno ridere. Peccato che quei farmaci antimalarici, che non sono la soluzione del mondo, ma sono una delle soluzioni al covid, l'idrossiclorochina, il placenil, giusto per fare un nome e un cognome, è usato adesso in Italia da centinaia di medici, ospedalieri e di famiglia per curare e guarire migliaia di malati. È nel protocollo sanitario in Germania, è nel protocollo sanitario in Cina, funziona in Germania, funziona in Cina, evidentemente è un farmaco che va bene all'inizio della malattia, non alla fine della malattia. È chiaro che se ti sbucci un braccio, l'acqua ossigenata serve se la usi subito, se usi l'acqua ossigenata dopo un mese non serve a un fico secco. Il 96% dei contagiati da virus non ha sintomi o li ha lievi, possono essere tranquillamente, serenamente, positivamente curati a casa, non in ospedale, a casa, ma bisogna dare ai medici la copertura, la tutela, le garanzie e i protocolli necessari per combattere il virus. Quindi devono poter usare tutti i farmaci possibili sul mercato, perché alcuni di questi, se usati all'inizio della malattia, guariscono le persone senza intasare gli ospedali. Perché no? A chi dà fastidio? Quali sono gli interessi economici che stanno dietro questo no? Che stanno dietro questo silenzio? Ci chiedono collaborazione? Questa è collaborazione. A nome, ripeto, non di Matteo Salvini o di un partito, a nome di centinaia di medici che stanno usando questi farmaci e queste cure in tutta Italia, da nord a sud, da mesi, con successo, quasi in segreto, guarendo le persone. Perché a me interessa che gli italiani stiano bene, che siano in salute, che guariscano. Come si chiama il farmaco? Se si chiama Pino o si chiama Gino? Non mi interessa. Se quel farmaco, usato in quelle quantità, in quel periodo di tempo, in quelle dosi, salva le vite, e allora usiamolo. Perché no, signor Conte? Preferisce giocare a risico coi colori. Ma lei sta governando un paese. Un paese sono 60 milioni di donne e uomini. Sono giovani e anziani. Sono famiglie. Sono fabbriche. Sono scuole. Sono scuole. Sono i nostri figli. Sono gli asili nido. Sono le scuole materne. Sono le scuole elementari. Le scuole medie. Le scuole superiori. Le università. Che anche nei paesi europei che hanno chiuso, Francia, Germania, Gran Bretagna, il lavoro e la scuola lo hanno tutelato come fondamentale per il futuro delle nostre società. In Italia no. A parte il fatto che con un ministro come la Azzolina stanno ancora arrivando i banchi con le rotelle. Molti di voi mi stanno mandando in posta privata. Continuate a farlo. Non riesco a rispondere a tutti. Ma vi leggiamo tutti. Foto delle vostre scuole, delle vostre classi dove manca tutto. Dove mancano gli insegnanti. Dove manca la lavagna. Dove manca la mensa. Dove manca la palestra. Dove manca l'intonaco. Dove manca il riscaldamento. Perché in tante scuole manca il riscaldamento a novembre. Però arrivano i banchi con le rotelline. Arrivano i banchi con le rotelline. Ecco. Chiaro che qualche ministro non è assolutamente all'altezza di fare il ministro e qualche presidente del Consiglio non è assolutamente all'altezza di fare il presidente del Consiglio in questo momento. Perché a febbraio e a marzo si navigava a vista, al buio. Era l'esplosione di un incendio mai visto nella storia dell'uomo. e quindi qualche ritardo, qualche incomprensione, qualche errore tutti l'hanno commesso ed era comprensibile e ammissibile. Ma a novembre no. Dopo aver avuto otto mesi per prepararsi, per organizzarsi, per prevenire, per ampliare, per comprare, per migliorare. Dopo otto mesi no. Signor Conte, dopo otto mesi non è possibile arrivare a un mercoledì sera in cui i cittadini, i lavoratori, gli operai, gli artigiani, i commercianti che hanno fatto sacrifici per sistemare i loro negozi, voi del governo, avete fatto spendere decine di migliaia di euro agli imprenditori, ai commercianti, ai baristi, ai ristoratori, a chi gestisce una palestra, un cinema, un teatro, una piscina, un impianto sportivo. Gli avete detto, spendi questi soldi, fai queste cose e poi ti facciano tornare a lavorare. Hanno speso quei soldi, hanno fatto quelle cose, risposta? Giù. Sei rosso. Tu sei rosso. Tu sei arancione. Tu sei giallo. Tu sei verdino. Però magari settimana prossima tu che sei arancione diventi giallo. Tu che sei giallo diventi rosso. Tu che sei rosso, rimani rosso fino al 3 dicembre. Sapete qual è la folia? Stamattina parlavo con il governatore della Lombardia Fontana che mi dice Matteo, non è possibile lavorare così, senza organizzazione. Sentendoti dire una cosa il mercoledì sera che devi applicare il venerdì mattina sulla pelle dei cittadini, degli imprenditori, dei commercianti, dei sindaci e soprattutto se i dati migliorano, per un mese non si tocca palla perché ne riparliamo il 3 dicembre. Ma così si mette un ginocchio a un paese. Così si mettono in ginocchio soprattutto i piccoli comuni perché puoi chiudere un centro commerciale a Milano, puoi chiudere un teatro a Roma, puoi chiudere una palestra a Napoli o un cinema a Palermo, ma nei piccoli comuni e l'Italia sono i piccoli comuni fai dei disastri se chiudi l'unico punto di ritrovo di quel piccolo comune di 2.000 abitanti se chiudi l'unico negozio, l'unico bar, l'unico ristorante, l'unico teatro di parrocchia di quel comune di 2.000 o 3.000 abitanti in Calabria e in Lombardia in Emilia come in Sicilia in Veneto come in Umbria crei un disastro quindi cure a domicilio con tutti i farmaci possibili e anche se costano poco e non arricchiscono le case farmaceutiche ma salvano vite usiamoli perché di signori che si stanno arricchendo col Covid ci diciamo una cosa sotto voce? Ce ne sono tanti vogliamo trovarci il 31 dicembre a leggere i bilanci di qualcuno che si è arricchito? parliamo delle grandi multinazionali che poi pagano le tasse all'estero e fanno soldi in Italia non sono battaglie contro o a favore di nessuno però sono sicuro che i signori Amazon e compagnia che i signori Zalando che i potenti dell'online delle consegne a domicilio faranno i gran quattrini magari pagando le tasse altrove e pagando poco i lavoratori in Italia voglio vedere i bilanci però quanti negozi chiuderanno quante partite IVA chiuderanno quante botteghe chiuderanno quante lavoratrici e lavoratori rimarranno a casa quanti precari non verranno riconfermati abbiamo proposto al governo reintroducete i voucher il lavoro a tempo perché nessuno in questo momento assume a tempo indeterminato il posto fisso alla zalone in questo momento è chiaro che in un momento di crisi di dubbio, di difficoltà c'è bisogno di lavoro veloce di lavoro per i bravi per i meritevoli a tempo reintrodurre i voucher è meglio lavorare per un po' di tempo che non lavorare proprio no, il governo dice di no e preferisce l'assistenza a casa con i ristori il ristoro a me ricorda quando facevo la Stramilano quando facevo le corse che a metà percorso ti davano la merendina o il succo di frutta ma se tu a qualcuno che fattura due, tre, quattro, cinquecento, mila euro dai duemila euro lo prendi in giro non gli servono neanche per pagare le bollette o per pagare una parte dell'affitto gli italiani non aspettano elemosina mance vogliono solo poter lavorare fenomeno che scrive metti la mascherina sono da solo nel mio ufficio mi autoproteggo almeno se dovete criticare a caso criticate con un senso se sono da solo in ufficio con me stesso al massimo metto gli occhiali per leggere salutare Gavri salutare Sofia salutare Andrea che mi dici sei in montagna no, sono a Roma Andrea sono a Roma in ufficio in Senato quindi mi piacerebbe essere in montagna saluto Yolan saluto Spartano siamo economica fente falliti saluto Angela magari ti ascoltassero hai ragione saluto Miriam io però spero che qualcuno non conte che avrà di meglio da fare perché sta giocando con i colori ma qualcuno del suo staff ascolti cure a domicilio tamponi a domicilio un'altra proposta non so se la condividete o meno l'hanno fatta in alcune regioni secondo me ha senso invece di chiudere in casa gli anziani io ho due genitori di 74 e 75 anni facciamo delle fasce protette per i nostri genitori i nostri nonni per uscire siccome saranno sicuramente collegati non solo ragazzi vedo Forza Bologna vedo Renato vedo Miriam vedo Fabio vedo Davide vedo Meri vedo Andreas vedo Daniele ma sicuramente ci sono anche genitori e nonni collegati la nostra proposta non è chiudere in casa milioni di persone per chi è fragile per chi ha più di 70 anni per chi ha già un'altra malattia facciamo delle fasce protette degli orari protetti e riservati per andare a fare la spesa per prendere l'autobus per prendere la metropolitana per andare in farmacia per andare a farsi il tampone per uscire che so dalle 10 alle 11 quel supermercato è riservato a chi ha più di 70 anni tanto a me che ho 47 anni e posso scegliere se andare a fare la spesa alle 9 della mattina o alle 6 di sera scelgo dalle 10 alle 11 quel negozio quella farmacia quel supermercato quella macelleria quella calzoleria quell'autobus quella metropolitana quella parte di città sono riservate a chi ha qualche rischio in più queste sono proposte cure a domicilio tamponi a domicilio fasce riservate per gli anziani e per i fragili poi un pensiero per i siciliani perché sono arancioni siciliani e pugliesi sono diventati arancioni da ieri sera e non possono uscire ma questa chiusura della Sicilia vale anche per chi sbarca a Lampedusa domanda al presidente Conte al ministro Lamorgese il divieto di uscire dalla Sicilia per i siciliani o il divieto di entrare in Sicilia per chi non è siciliano vale anche per i clandestini che anche adesso stanno sbarcando in Sicilia duemila 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 lo scrivo duemila 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 no non è da giocare all'otto duemila duemila sono i clandestini sbarcati in Sicilia negli ultimi giorni da sabato a oggi e non è neanche finita la settimana duemila ora i siciliani non possono uscire dalla Sicilia i lombardi non possono uscire dalla Lombardia i calabresi non possono uscire dalla Calabria i piemontesi i pugliesi i valdostani non possono uscire non possono entrare e i clandestini possono sbarcare mi girano tremendamente le palle anche perché poi chi li controlla questi chi ha il covid chi non ce l'ha poi qualcuno che sbarca va in Francia e sgozza e taglia le gole però non è colpa del governo è colpa di Salvini però non è colpa del governo ma è colpa di Salvini se qualcuno a ottobre duemila e venti con questo governo sbarca in Italia scappa va in Francia uccide non è colpa di Conte della Lamorgese per caita di Dio è colpa di Salvini ragazzi ci sono ad esempio alcuni sindaci del PD in Lombardia che protestano e ragazzi ma venite a Roma a protestare perché al governo c'è il PD vi svelo questo segreto al governo non c'è la Lega ci torneremo appena ci faranno votare in maniera corretta e vigileremo sul voto per evitare brogli fregature come quelle che stanno emergendo negli Stati Uniti e a proposito gli americani hanno dato grande dimostrazione di partecipazione di democrazia di coraggio hanno sconfitto la paura hanno sconfitto il virus hanno rispettato le norme però c'è qualcosa che non funziona in quei dati ci sono alcune Conte che stanno emergendo dove ci sono più voti che votanti cioè ci sono alcune realtà dove ci sono più schede elettorali che cittadini residenti quindi ha ragione Trump a chiedere controlliamo voto per voto seggio per seggio contea per contea stato per stato e non escludo nulla vedrete che potranno esserci sorprese vedrete tutti i giornali e le televisioni italiane e americane dicevano sono elezioni inutili tanto ha già vinto Biden ha già vinto il partito democratico ha già vinto la sinistra Trump non lo voterà nessuno non lo voterà nessuno tranne alcune decine di milioni di americani che lo hanno portato a vincere nella maggioranza degli stati ce ne sono alcuni in bilico che ballano di una manciata di voti e vedrete confido che possano arrivare delle sorprese perché il voto è sacro e quindi va trattato con trasparenza trasparenza che belli cinque stelle di una volta che chiedevano trasparenza pensate che i verbali del comitato tecnico scientifico i verbali del comitato tecnico scientifico che è poi quello che decide delle nostre vite delle vostre vite del vostro lavoro della vostra scuola del vostro negozio del vostro futuro e del vostro presente sono segreti e vengono resi pubblici un mese e mezzo dopo ma che fine ha fatto trasparenza trasparenza dov'è Grillo qualcuno ha notizie di Beppe Grillo che parlava su tutto tutti i giorni su tutti i temi che fine ha fatto Beppe Grillo casaleggio dibattista onestà trasparenza fateci vedere tutto le riunioni in diretta streaming fate i consigli dei ministri in diretta streaming gli italiani hanno o no il diritto di leggere i verbali del comitato tecnico scientifico i medici le centinaia di migliaia di medici in Italia e in Europa hanno o no diritto di leggere i verbali di coloro che decidono delle nostre e delle vostre vite secondo me sì non vedo cosa ci sia di segreto a meno che qualcuno non usi affini politici dati scientifici la qualcosa sarebbe molto grave ora vado perché ci tenevo comunque ad aggiornare per una ventina di minuti voi su cosa stiamo facendo da ieri non da stamattina la prima telefonata stamattina alle sei e mezza ed è giusto così però è da ieri che si lavora con gli imprenditori con i commercianti con gli artigiani con gli operai con i sindaci con i governatori con il Piemonte con la Calabria con la Sicilia con la Lombardia con il Veneto con Roma ringrazio Luca Zaia che sta ruolando medici infermieri veterinari e fa di tutto e di più per curare la sua gente non ringrazio il signor Conte che dalla sera alla mattina sulla base di dati vecchi segreti oscuri sconosciuti non condivisi non concordati chiude e apre come se fosse un gioco signor Conte l'Italia non è un gioco non è un risico salvare le vite è fondamentale la vita non la salvi chiudendo una palestra una piscina un cinema un teatro un bar un'intera città un'intera regione senza criterio senza programmazione senza condivisione senza collaborazione senza partecipazione quindi programmare condividere ragionare salvare ma la medicina non deve essere più letale della malattia che dovrebbe curare qua si rischia di non risolvere il problema sanitario e di intasare gli ospedali perché non si va a casa degli italiani a portare medicine e tamponi quindi non si risolve il problema sanitario ma si crea un disastro economico sociale e culturale senza precedenti dico culturale perché una volta la sinistra era quella che si occupava di cultura di bellezza di arte di cinema di teatro di musei di poesia di musica adesso chiude chiude ma che senso ha chiudere dei luoghi sani sani chi si è ammalato a teatro nessuno chi si è ammalato al museo nessuno chi si è ammalato in palestra nessuno noi ci siamo stiamo continuando a fare proposte idee innovazioni soluzioni ci stiamo lavorando con i commercianti con gli artigiani con le partite IVA ringrazio i consulenti del lavoro per l'enorme lavoro che stanno facendo ringrazio i commercialisti e i commercialisti hanno chiesto una cosa normale sospendiamo il pagamento delle tasse almeno per tutto il 2020 qualcuno chiede anche per il 2021 giusto tu chiudi un'azienda chiudi un negozio chiudi una bottega chiudi uno studio professionale soldi veri cash subito sul conto corrente basta parole basta chiacchiere c'è gente il presidente dell'inps che dice ci sono solo alcune decine di migliaia di lavoratori italiani che aspettano la cassa integrazione che non hanno avuto niente io spero che quelle poche decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori ti vengano sotto l'ufficio a chiedere conto della tua incapacità commissari che non sanno fare il loro lavoro presidenti che non sanno fare il loro lavoro ministri alla azzolina che non sanno fare il loro lavoro presidenti del consiglio che dopo nove mesi tornano a chiudere improvvisando c'è la sensazione di casualità oggi a chi tocca ma oggi alla Calabria e alla Lombardia un pezzo di Piemonte un po' di Val d'Aosta una parte di Sicilia un pezzo di Puglia magari domani prendiamo un po' di Marche un po' di Romagna un pezzo di Liguria tre quarti di Friuli Venezia Giulia e una parte di Basilicata poi la campagna che fine ha fatto la campagna questo grande mistero c'era De Luca che ha chiuso tutto De Luca ha chiuso le scuole De Luca ha chiuso le attività De Luca ha impedito di spostarsi da provincia a provincia da città in città De Luca il governatore della campagna voleva usare il lanciafiamme per chi entrava in campagna per chi usciva dalla campagna per chi arrivava a Napoli per chi va via da Napoli e adesso la campagna non ha problemi guarda caso dopo le manifestazioni di Napoli non voglio pensare che siano collegati hanno fatto casino a Napoli hanno fatto manifestazione a Napoli hanno fatto proteste a Napoli da Napoli voi mi mandate tutti i giorni le foto dei problemi negli ospedali gente al pronto soccorso per due giorni gente curata per terra gente che non trova posto nel reparto ospedaliero malati mandati a casa malati che rimangono a casa e aspettano una settimana di vedere il medico disastro che voi mi segnalate che i giornali segnalano tutti i giorni ahimè dalle città della campagna ma per conte la campagna è gialla e non c'è nessun problema aca nisciuno e fes penso che si dica così e spero di non aver storpiato questo bellissimo dialetto aca nisciuno e fes non ci sono fessi a Napoli non ci sono fessi a Milano non ci sono fessi a Torino non ci sono fessi a Palermo magari c'è qualcuno che è attaccato alla poltrona a Roma non giocate con la vita degli italiani non giocate con la salute degli italiani non abusate della pazienza degli italiani perché la salute è sacra e il lavoro è sacro e pensate chiudo con questa riflessione e la offro non a chi è d'accordo con me ma a chi non è d'accordo con me perché mi piace su questa pagina ci sono più di 2 milioni di persone anzi vi ringrazio siamo arrivati a 2 milioni e 300 e 300 mila di idee diverse e quindi è giusto anche confrontarsi con la civiltà del caso sapete di che cosa si occupa la commissione dedicata della Camera dei Deputati settimana prossima del Parlamento della Repubblica settimana prossima che discussione comincia smontare i decreti sicurezza smontare i decreti sicurezza perché per PD 5 Stelle e Conte e il ministro Lamorgese la priorità evidentemente non è difendere i confini non è proteggere la Sicilia non è controllare chi entra da est in Friuli Venezia Giulia non è chi sbarca in Puglio in Calabria o in Sardegna no è smontare i decreti sicurezza non abusate della pazienza delle persone per bene dei miti di quelli che hanno sempre lavorato dei lavoratori autonomi degli artigiani dei bottegai dei taxisti degli agenti di commercio dei lavoratori dei lunapark del pubblico spettacolo delle commesse dei lavoratori dipendenti delle persone per bene delle mamme dei papà che si trovano i figli a casa senza saper nulla un figlio di seconda media a casa in una città sì in una città no in una scuola sì in una scuola no in una regione sì e in una regione no visione programmazione competenza buonsenso coraggio coraggio il coraggio delle proprie scelte è sempre colpa degli altri per il signor Conte l'importante è che lui sia ben vestito profumato e pettinato quando va in diretta alle otto di sera ed entra nelle case degli italiani annunciando che sta per chiudere quelle case non si lavora così non si governa un paese così non si fa l'interesse degli italiani così noi con i nostri limiti ce la mettiamo tutta ripeto sono in contatto vi aggiornerò entro il pomeriggio dalla Calabria alla Lombardia dalla Sicilia al Piemonte dalla Puglia alla Val d'Aosta per risolvere per curare per rasserenare io non mollo io non mollo mi sono arrivate altre due convocazioni per altri due processi fa niente avanti a testa alta male non fare paura non avere un abbraccio in particolare a tutti ma agli amici calabresi agli amici lombardi agli amici valdostani agli amici piemontesi agli amici siciliani e pugliesi che sono stati estratti come rossi o arancioni ripeto sulla base di dati vecchi di più di dieci giorni l'Italia è il più bel paese del mondo la riprenderemo per mano riporteremo salute bellezza ricchezza sorriso e speranza mai mollare se voi ci siete io ci sono grazie